qui davanti ciao radorezzo dentro sta dentro il camion porco 10 non scoppiare tutte e due morto e chi è là e chi è là vabbiamo già adesso la terra 1 non so che lasciate ti avevo tirato la scala ti ho chiesto di stare a salire guarda dove cazzo l'ha messo tocca a st'attenti dalle turri ok cazzo è una vina dovremmo scusa ok oh gente qui gente qui ci rinnamo a fare oh lo dico sono scesi tutte e due lo cazzo sta la terra 1 oddio era salito era eh ma si l'ho tirato io ma che è quello eccola eccola spara agli oh cazzo gioco qui davanti ciao ciao la torre adesso non fa la bandiera va ok c'è un mp5 ma che è quello nuovo ma che vaffanculo mp7 ma dove sta lontano mannaggia a me io ho messo la chiacchiera ok ci stiamo c'è shop qui davanti abbiamo l'uav l'uav ecco qua adoro essere uno morto c'è un altro eh morto ok c'è gente sento ancora a spara oh ricercato qua ricercato qua gioco vamo ok per oh c'è 17k senti fammi un triplo coprimi si c'è uno qui davanti sta dietro alla recensione eccolo porca di dio sta one shot è morto oh cecchino cecchino l'ha ammazzato un cecchino attenzione uovi rientro portato per fare ricordamento ma che ne so oh c'è gente qui dietro gente qui dietro al shop corri 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 lasciate qui al cecchino ma stanno qua dentro eh si si morti morti cecchini senti mo cross mo cross non è qui eh eh mo ti crossa pezzo de merda andamo qua andamo qua c'è una macchina cazzo ah no non devono cosa per forza shop 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 che via non me ne fa sta dentro la camion eh porco 10 non ho scoppiato tutte e due torniamo da questi qui i cecchini che se crossano ci viviamo almeno che ci sono venuti a destra e chi la e chi la e chi la è sceso giù ma sai eh senza me sai che vuol dire morto uno c'è uno qua sotto però eh oh c'è uno che tossisce con il gas ma sta qua sotto sta pingami un po' qua siamo troppo in mezzo oh c'è uno che sta arrivando a lot out morto è chi la e chi la vamo siamo a terzo la terra uno quanto cazzo gli stanno a sparare tu c'è la cassamuni vero oh gente che tossisce qua sotto ok uno è morto è quello che stava a terra questo ce la dovrei essere sicuro occhio eh ok è morto da me cazzo i muni cazzo i muni mi serve via qua via qua la trappa oh sempre stanno da qua dove oh ma dove oh no 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 ci hanno fatto il giro da qua ecco lì due a terra uno crackato due a terra dai è così no ne manca uno ne manca uno eh a terra uno crackatoUS hàng non ci ha dato una trappa e morì cazzo da ye da ye cazzo da ye 18 kg ho fatto è un motorista avuto